Vuoi fare un gioco? Questa è la tua ultima possibilità. Abbiamo scelto centinaia di giocatori da tutto il mondo, ma c'è posto solo per un altro. Potresti essere tu. Il premio in palio è di 4,56 milioni di dollari, ma chi perde andrà a casa a mani vuote. Vorresti partecipare? Faccelo sapere, il tempo sta per scadere. Grazie a tutti.